C'era una nave dove c'erano delle persone che stavano soffrendo molto bloccate perché qualcuno si era inventato che si potevano fare i porti chiusi e non si potevano fare e infatti si è andati avanti anche a dimostrare questo. Quindi quello che io dico brevissimamente è che stiamo tutti secondo me sottovalutando l'effetto intimidatorio di questo tipo di atteggiamenti nei confronti dei giudici. Andare a cercare dei video, andare a cercare delle sentenze passate, andare a profilare, non voglio dire dossieraggio, ma andare a profilare un giudice per dimostrare che le sue sentenze sono viziate e farlo dalla posizione di potere maggiore che c'è perché lei è sottosegretario della giustizia, perché Salvini è un ministro, perché la Presidente del Consiglio è la Presidente del Consiglio, farla con la dose enorme di potere che ha il governo è in una democrazia gravissimo. Succede in Tunisia, succede in Polonia e succede in Ungheria. Cioè accuso cos'è che avrei fatto io di gravissimo, me lo rispieghi perché ho faticato a capire. Non, trasformo la riflessione di Annalisa Guzzochea. Cioè discutere del magistrato, sindacare l'operato del magistrato è gravissimo. Non profilare, andare a dire... Ma io non ho profilato nessuno, è uscito un video di una manifestazione pubblica che non è né dossieraggio né profilazione, non è nulla, perché se uno va a una manifestazione pubblica, anche se un magistrato sa che può essere ripreso e se ne assume le responsabilità. No, 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 ma lei ha un risparmio a raccontare tutte le manifestazioni a cui sono andato io e non mi sento intimorito o intimidito. Facciamo un passo avanti. Non esageriamo, cioè si va, si prende un video di una manifestazione a cui ho partecipato e la staremmo intimidendo, intimorendo, non ho capito per quale motivo. Non me ne ho capito. Siete chiedendo le dimissioni, avete chiesto che sia radiata. Faccio un passo avanti con una piccola chiosa, nel senso se dovessimo andare a recuperare tutte le manifestazioni a cui hanno preso parte, non dico lei, ma diciamo altri membri del governo, gli imbarazzi sarebbero molti e se dovessimo chiedere a tutti la stessa coerenza, mezzo governo va a casa, però detto questo, facciamo un passo. A me sta prendendo le mie magliette che avevo quando avevo 14 anni. No, voglio fare una domanda, però se posso. Sì, erano delle magliette terribili, però. No, non sono terribili. E se lei lo dice, la querelo questa sera, perché non c'entra niente con quello che hanno detto. Non è una maglietta di un gruppo. Niente, non è quello. Possiamo parlare in modo che anche chi a casa capisca di che cosa parliamo. Allora, no, perché si inventano, ma io le porto qua, si inventano le cose, vanno a prendere le magliette di quando avevo 14 anni inventandosi che sarebbero le magliette di un gruppo musicale che io non conosco, non ho mai conosciuto. Non c'entra niente. Ma infatti, lo deve dire. E si vede lontanamente, ma lontano un miglio. Chiarita questa cosa che avete capito solo voi perché a casa probabilmente non l'hanno capita? Andrei avanti.